Grazie a tutti. 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 Dio è deciso eh! Dio è deciso eh! E' il basco, basco, vieni via. Istia! Gioca! Lanca! Ma gioca la larda a sto palla! Largo, marco, largo! Sigerino, scroo, d' historia! Sigerino, scroo, scroo, scroo! E' il basco, bravo, scroo, scroo! Bacchou, scroo! Wistia! C'est Smiro! Auxilio! Vieni! Ancora! 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 Mischia! Scendi! Cambio! Cambio! Marco mi devi spiegare cosa fai lì in mezzo. Giocala ancora! Aspetta! Aspettiamo! Giocala! Marco guarda qua! Marco dove vai? Guarda di qua! Via 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 via! Tutto grazie a Cardallone! Sì ma non tu che riprendi! Bravo! Sì! Sì! Lory! Lory! Muoviti! Muoviti! Muoviti Carlo! E quindi tu devi andare! Controllalo! Vicini eh! Corri! 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 per colpa di pochi ha sbagliato tocchiamo uno scambio Vai, vai! Vai, vai! Vieni in centrale! Carlo, muoviti! Chiudere! Chiudere! Chiudi! Chiudi! Guarda! Chiudere! 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 Marco, Marco, sali, 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 Carlo, cambia il gioco, cambia il gioco, Marco torna un po', troppo avanti, vieni fuori, vieni fuori, bravo, bravo, e corre, cambia l'arca, Cristo ha deciso, dai Marco, aiuta, 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 dai, veloce, vieni, dagliela, subito però, gioco e mezzo, buona, cambia, la difesa, dietro, si arriva, dietro, non da parte, dietro, ancora, guppa alle mucche, guppa alle mucche, Marco, prendilo, 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 Ivan, tua, eh, via, Franci, gioca, gioca, gioca ancora, Marco, guarda, 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 guarda E' meglio, è! Cambio! Giacci, giù lì, è! Mettila! Vai Frigi! Bravo! 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 Guarda che arriva! Guarda che arriva! E' meglio! Carlo ce l'hai dietro l'uomo eh! Carlo ce l'hai dietro! Carlo! Sì! Tori! Più deciso è! E' meglio! Ehi! 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 Raggi, incontro la palla, sei fermo, prendilo Cristian, prendilo Cristian, basta, 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 cambia gioco, cambia gioco, prendilo Cristian, giocala! Davide, dai che ci siamo! Davide, dai che ci siamo! Dario, Dario, devi giocare giù, dai! Oh, ri, dai, ri! Non giochiamola sempre così a casa. Gabriele, prepara! Bene, eh! Perché sei lì? Gioca anche Andrea, sempre! Gioca anche Andrea! Viva! Gioca! Gioca! Cristian, prendilo che sta già andando! Adesso, 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 insieme! Siamo tutti e due, eh! Dario, Dario! Sbagliamo, viva, sotra qua ci siamo, eh! Dai, vai qui! Dai, vai vai, vai! Lori! A me! Al denso Marco! Al denso! Bravo, Gotti! Tagliare, tagliare! Stamani, fracci! Buon anno! No! No! Nico! Ci ha la volta in sé! Lo usa la terza! No! 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 Nico! Nico! C'è la cosa in sé! Lo usalo a terza! No! 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 Mauro! No! Nico! Vieni avanti, Nico! Bravo, bravo, bravo! Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti! Guarda, guarda! Guarda! Vieni avanti! Vieni avanti! Un'altra! Va bene, va bene, va bene! dai 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 vai mezzo vai mezzo vai Pedro vai 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 forza vieto 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 forza vieto forza ragazzi bravo bravo ancora bravo bravo vieto 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 bak bravo bravissimo vieni 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 fuori dai dai vai dandone dai dai Vai Dario! Brava Dario! Dai Dario! Dai Dario! Dai Dario! Dai Dario! Bravo Dario! Andiamo via! Andiamo via! Forza eh! Forza eh! Forza eh! Andiamoci! 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 Andiamoci ancora! 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 C'è l'unione, guarda l'uomo! Forza, dai, dai! Dicchi, alzati! Ivan, non devi giocare in difesa! Sì! Stiamo! Tirati, dirti com'è! C'è un bel anno! Metti il corpo! Ci mette il corpo! Su, non dà la paura! Vabbè, allora! Guardate! Sì, sì, sì! Bravissima! Bravissima! Sì, arriva! Vai di là, vai di là! Bravissimo! Dai, dai, assieme! Forza! Sì, arriva! Andiamo! Andiamo dà! Via! Andiamo! Corri! Taglia! Dai! ce l'hai ali ce l'hai ali? bravissima, andiamo adesso! vai! è che è angolo, è angolo forza! Forza che lo leghi! E' bello! E' bello! Deciso! Attiva! Va bene, va bene, forza! Brava, brava, brava! Vi qui va bene! Vai! 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 Sola! 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 Ora, ora, ora! Entra! Entra la bola! Un, due! Ciao inzieli! Siamo in tre! Abbiamo in tre! Ah, ai! Tres! Vitti! Tres! 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 Dai! Al dietro! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a tutti. squadra classificata che è la società di casa, la società San Filippo Neri e Sant'Agnese, Dio Giorno! Dio Giorno! Seconda squadra classificata, US Posizio! Dio Giorno! 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 Dio Giorno!